Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della tecnologia Benvenuti qui a casa mia dove ho messo tutti i barnelli fichi Si che bello che cacchio è successo qui Che cacchio What Ok ragazzi è successo qualcosa di strano 11 milioni Che cosa cavolo Ok ragazzi c'è qualcosa di Che non va con il server C'è qualcosa di serio che non va Ragazzi potrei quasi dire Che i tank della Railcraft sono buggati Ma non ne so così sicuro Ragazzi può darsi che sarò costruito a bannare i tank della Railcraft Sono buggati C'è qualcosa Aspetta 11 milioni di petrolio Io ho finito il petrolio Idrogeno 1100 Metano Metano 1.2 milioni Raga Raga Prima che riavviesse il server c'è ho metano pieno Metano Guardate ho celle di metano Ho 1700 celle di metano perché il metano era pieno C'è ho 22 milioni di metano di più What the fuck Ok c'è qualcosa che non mi quadra Qualcosa di serio che non mi quadra Non so cosa cacchio stia succedendo ragazzi Diesel cell Probabilmente dovrò togliere i tank No sicuramente No probabilmente Vabbè Sono rimasto molto dubbioso A parte questo Il riavvio del server Comunque queste modifiche che ho fatto Probabilmente è dovuto delle modifiche Non lo so Vabbè ho fatto un po' di sistemazioni Un po' di sistemaggi Ho ordinato Ho fatto cose fighe Vabbè Ma niente Le cose fighe che ho sistemato So prendo tutto questo Che è bellissimo Guardate La xanderite serve a qualcosa E diventa questa roba qui Due idrogeno Sei sale Due lazzurite E Quattro sodalite E ci vogliono due celle per processo E quattordici xanderite Serve sei Più quattro Quattordici Insomma la somma di quello che viene fuori è quattordici Ho fatto un po' dei lavoretti Ci ho pensato un po' su Ho visto da cosa può essere formata E è venuto fuori quello Un'altra cosa che ho aggiunto È stato l'etanolo Quello che vi dissi tempo fa L'etanolo Che non so se la resep è venuta Andiamo un attimo Perfetto L'etanolo che si fa con 8 biofru No aspetta No aspetta Perché Ho sbagliato a scrivere Ok ho scritto male questo ragazzi Non dovrebbero uscire queste 8 celle 8 e 8 16 e 8 Che cos'è questa roba Ok devo togliere queste 8 celle da qui Ho scritto male io Vabbè Ho messo 8 e 8 Sono un po' scemo Devo metto solo qua 8 Vabbè questo si corregge subito È una stupidaggine Ok Comunque questi sono gli aggiornamenti Quindi adesso posso utilizzare Queste schifo di celle Queste qua Biofru Le mettiamo in installation tower Vabbè non lo facciamo adesso E in più c'è stato un altro cambiamento ancora La logistic pipe esplosa di nuovo Come al solito Esploso tutto E sono passato all'extra utilities Già Lo vuol dire Che cazzo sei passato a fare L'extra utilities Extra utilities C'ha questi cavettini qui Che non sono proprio efficienti al massimo Però viaggiano E almeno non esplodono E sinceramente Di portare le me Là non mi va Quindi adesso io vi spiego Un attimo questi cavetti Perché Sono molto interessanti Non ce ne so Ah no è transfer Transfer Sì l'avevo messo pure Autocraftati Mi pare Ho fatto l'autocraft Sì Un po' di transfer pipe Poi c'è il transfer node E poi ci voglio Un transfer node upgrade Questi sono importantissimi ragazzi Senza questi Non si conclude un cacchio di niente Poi mi servono un po' di chest Sì ragazzi Lavorano con le chest Sì affari Mo' vi faccio vedere Perché le chest Perché è molto Molto figoso E basta Tutto qui Ah mi serve anche la cosa qui La filter pipe La sono dimenticata Che mi manca qui Il giallo Ce l'ho ce l'ho Ce l'ho ce l'ho Questo ho fatto un bel po' di filter pipe Però l'ho finita tutte LOL E ho fatto un po' di lavori Alla zona farm Mo' le faccio 3 4 Si basta Non ne servono tanto Oh no La buttate dentro Come cacchio si chiamano Sì poi recupera tutte le logistic pipe Ragazzi sono rimaste 697 logistic pipe Una cosa che non ha Alcun senso Andiamo alla zona fa No no Il carrello Lo dimentico sempre Ragazzi ogni volta che io vado giù C'è crede che io torino dietro a piedi E poi quando arrivo a casa Dico Cazzo non sono venuto col carrello Ma sono ritardato Cioè che problemi c'ho Non lo so vabbè Però il carrello sta laggiù adesso Cammino Ok eccomi qui Ed ecco i cambiamenti Che sono stati fatti Allora Semplicemente ho aggiunto Una chest Dietro l'arvest Perché la roba va buttata Dentro la chest Purtroppo questi cavetti Non posso prendere direttamente oggetti Ragazzi siamo nel 1.5.2 Quindi magari nelle nuove versioni Le cose sono un po' cambiate Però A questi tempi Cioè quando c'era l'1.5.2 Non potevano estrarle direttamente Non potevano attaccare un tubo diretto Dove forza metto una chest Poi sotto ci ho messo il transfer node Questo E sotto ci ho messo la filter pipe Poi Ogni farm Vi ho messo una chest Perché mo vi spiego un attimo Funzione Andiamo dall'altra parte Ve l'assemblo Mentre ve l'assemblo Ve lo spiego E si ragazzi Queste pipe fanno una cosa un po' particolare Cioè loro cercano Un inventario Si detto così Non ha molto senso Cioè io ogni tanto devo fare così Guardate Così Chest Transfer node Vi anche tu Transfer node E poi metà poker T'entra il transfer node Allora il transfer node Tiene fino a 19 upgrade 19 So So parecchie Ecco fatto Non so perché 19 Non me lo chiedete Perché so probabilmente Chi ha fatto la moda È un demente Però a dettagli Non so che cazzo di problemi c'ha Non so perché ha messo 19 Solo upgrade La versione nuova è cambiata Ovviamente ragazzi 1.7.10 1.6.4 È cambiato tutto Drasticamente Però questa versione era così Allora Come ho settato il tutto Allora Prima di tutto ho messo le pipe qua Molto semplicemente Ma proprio easy peasy Guardate Bam Una facilità disumana Qua sotto Sta facendo Il blocco Questo qui sta percorrendo Tutti i tubi In cerca di un inventario Che possa accettare Questo oggetto Più upgrade si mettono E più la ricerca Accelera Guardate Ecco che Guardate come cerca Veloce Ha trovato un inventario Oh Che inventario avrà trovato Sicuramente avrà trovato Questo Il planter Vedete ragazzi Sta trovando questo Come un inventario E non va bene Manco per niente Per impedire ciò Io devo prendere Un cacchio di sapling E mettere che Nel blu di là Ci possono andare Solo i sapling Eh si ragazzi Perché non solo Questo inventario Voi direte Come c'è trovato il legno Come ho fatto a trovare il legno Perché anche quello Sta cercando inventari E come inventario Ha trovato questo Però adesso che io ho messo Il sapling qui Nel blu Che sarebbe la direzione E come la pipe in diamante Questa ragazzi Semplice Il sapling nel blu Per di là Ci andrà solo sapling Cioè nel momento in cui Lui sta smistando Tipo legno Quando arriverà Questa pipe E dirà Oh nel blu Ci va solo il sapling È lo stesso concetto Però dipende tutto Da questo blocchetto qui Transfer node Guardate Vedete Adesso il legno È andato nel transfer node E il transfer node Sta cercando un posto Vedete Appena trova la coordinata giusta Dove c'è un oggetto Magari una cesta O un inventario PAM Lo deposita Che sarebbe quella cesta Laggiù È per questo che io ho dovuto Mettere ogni tanto Una cesta con transfer node Perché altrimenti Ci metterebbe talmente tanto A trovare la cesta Che si impalerebbe tutto Se io metto delle ceste Piccoline ogni tanto E lui vede le ceste E dice Cazzo ci sta la cesta Andiamo lì La scienza Capito insomma È per fargli capire Che c'è un altro inventario E poi depositarla lì Così Così viaggia insomma Altrimenti si impala tutto Perché altrimenti La cesta si riempie Perché non trova inventari Destinazioni Blah blah Tutto bloccato Moro e tutto Esplode la farm Ho finito il fiato Mi sono agitato troppo Ok Vediamo un po' di marmo Meno male che ogni tanto Trovo dei pezzi di marmo Però non c'ho la Davvero non c'ho il cise Ah si ragazzi è successo Un'altra cosa brutta Ho perso tutto l'inventario Un'altra volta Come sei morto di nuovo No non so Ho morto Ho cambiato il nome Del personaggio Ho cambiato il nome Del mio personaggio In minecraft E cambiando il nome Purtroppo ho perso Anche l'inventario Perché ovviamente L'inventario è salvato Con l'altro nome E non posso recuperarlo In nessun modo Ci ho provato Non si può Non è quanto triste Come cosa Si poi ho continuato Vedete ragazzi Ho fatto Tanti cavetti Tanti tubi Vedete Vedete I transfer nod Viaggiano bene E poi Notate un po' Il transfer nod Mi si è attaccato Al tesseract Per scollegarlo Basta dare una frenciata Non è vero Ecco Occhio Occhio a quelle righette Vedete le righette Raga Sono per dare la direzione Noi non vogliamo direzione Vogliamo il bianco Il bianco vuol dire Non ti collegare Con i blocchi Quindi non vi sbagliate Occhio a quando mettete Quei trattini Perché altrimenti Mi si impalla tutto l'impianto Qui intanto viaggia Tutta a mazzetta Ragazzi Qui c'è sempre un'altra cesta Col transfer nod sotto Che fa lo stesso identico lavoro Guardate E ovviamente La cesta di destinazione È questa qui Quindi da lì A lì ci metto un secondo A trovarla E viaggia da paura GGS di transfer nod Ma hanno risolto Il problema logistico Cazzo Splodeva in continuazione Sta pipe raga Stamattina sono loggate Resplosa la pipe E tutte le farm spente Tutto morto Completamente spiattata da terra E così L'ho fatto un po' riprende Mo dobbiamo dargli Un bel po' di energia A ste farm Sono un po' a corto Oddio Perché i megajau Non bastano ragazzi Mo passiamo agli EU Sì gli RF Stati ciao Ah un'altra cosa raga Avete presente Quando ho messo Nel grinder Tutto il Il ferro sor È uscito una valanga Di platino Milioni di miliardi Di platino E l'ho messo A centrifugare Guardate un po' Cosa ho fatto 1259 Iridium nugget Bellissimo E sotto questi Iridium nugget Ragazzi Li facciamo diventare Iridium mingot Bam Bam Due stack Di iridio ragazzi Oh mio dio Posso cominciare A fare qualcosa di serio Con l'iridio Tipo una cosa bellissima Che vuole fare È il pannello solare Questo qui Questo qua Questo qua Questo qua Ultime t-breed Ma ci vuole una valanga Di roba Un sacco di Iridium plate Iridium plate Purtroppo si fanno L'implosso e un compresso Con l'iridio Alloy E l'industria Diamond Non è proprio Così facilissimo Dov'è in sé D'alloy Oddio Proprio facilissimo No Però se potrebbe Fai Raga io devo Fa sto ultime t-breed Per forza Certo pure L'advance Ci vuole il radiant Blablabla Iridium plate Beh Per fare Però si può Fa Raga lo facciamo Stato craft Mamma mia Sai che cosa bella Ragazzi Facciamo così No facciamo proprio niente Altri cose che vorrei fare Guardate un po' Vabbè ho cambiato i nomi Chiamato il reattore 2-2 Reattore 1-1 Plutonio 1-1 Plutonio 2-1 Ehm Ho sistemato un po' i pannelli Ho messo che produco Vedi la protezione 1000 EUT Reattore nucleare Torre 1 Reattore nucleare Specifico Nucolare E qui ci ho messo tutti i tank Però C'è ancora sto bug Che non mi convince Il petrolio era finito Raga potersi che banero i tank Della Railcraft Lo ripeto Ve lo dico Teneteli d'occhio Perché potrebbero essere buggati Poi Altre cose che ho fatto Che voglio farvi vedere Allora Ho un nerdato pesante Sì non fate caso Sti blocchi sul tetto Su cerchio qua sopra invece Una cosa fighissima che ho fatto Guardate Praticamente 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 Vedete Vedete cosa ho fatto Ho fatto come con Le distillation tower Ho messo l'MFE Delle blast furnace sotto E ho fatto passare Tutti i cavetti Al media voltaggio Qui sotto a cerchio A quadrato Vabbè a cerchio Insomma Che girano in tondo È molto più figo Ovviamente lì non è chiuso Il giro tondo Non piace all'energia Ricordate Non piace Poi ho pogradato Sta blast furnace L'ho fatta diventare reinforced Così gli ho potuto mettere Altre due industrie Al blast furnace Qua davanti E stanno cuocendo Silicio A volontà Stanno cuocendo Tutte silicio Tranne questa che cuoce Cromo e alluminio Anzi alluminio Ho pure stufato Spendi un po' Sto cuocendo troppo alluminio Ragazzi Sto strapieno dei lingotti Alluminium Guardate quanto ne ho Ho 17k di lingotti 23k di dust 440 di plate Vabbè quelli sono dettagli Non fa niente Comunque Sì Questo qui lo sto cuocendo Ragazzi Il silicon shell Ovvio eh Cioè Parliamone 3300 per fare i pannelli solari Ragazzi Il silicon shell Ci fa il pannello solare Eccolo qui Non si scappa Pannello solare Si fa col silicon shell E l'advanced Si fa col pannello solare Aspetta Non c'è un modo per No Niente Un modo per fare L'advanced Con tanti solar panel Invece di fare sto casino Rinforse glass No Purtroppo no Purtroppo pare proprio di no Vabbè Comunque solar panel Dovrò farli comunque Perché sennò questo Non lo craft Cioè Volevo fare tipo che Aspetta Questo quanto produce 32 mi pare Giusto Ci vorrebbero 32 Solar panel E tanta roba Esploso 81624 No no Lasciamo perde Ok Dobbiamo fare sto craft Vabbè ragazzi Io vi saluto Vi ho fatto vedere tutte queste cose carine Spero vi piacciano Ah Vi faccio vedere anche il sopra Vedete anche il sopra Guarda qua Ecco 4 industrial grinder Proprio pesantissimo Spammatissimo Sto ancora Sto ancora Grindando il mercurio Ah Ecco una cosa molto bella Che volevo fare Vabbè Ragazzi Per questo video è tutto Ci vediamo nel prossimo Dove andremo a lavorare All'autocraft del pannello solare Quello finale Faremo il suo autocraft E poi vi farò vedere un'altra cosa Che devo fare con questi grinder Che riguardo l'uranio Eh sì ragazzi L'uranio va lavorato qua dentro Sì sì Non si scappa Ciao a tutti Al prossimo video Bella Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti Grazie.